Chiellini velocissimo si è portato in zona d'attacco, Vidal, che ha visto l'insteinere. Due difensori in fase d'attacco per la Juventus, c'è Chiellini, Chiellini! Intesa perfetta, il raccoglio della Juventus. Sorpresa nella controgiocata alla Lazio. Un centrocampista esterno e un difensore confezionano, l'avete nel raccoglio, l'avvio per Vidal. E firmo subito, grande lucidità in fase di ripartenza della Juventus.